L'Università non ha invitato il Consiglio Comunale di Bologna alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico che coincide con il conferimento della laurea al Presidente Napolitano. Sembra che il Rettorato abbia fatto questa scelta per mancanza di posti. Imu massima al 10,6 per mille per le seconde case che siano sfitte o affittate con contratto a fornire dettagli sulla manovra del Comune e l'assessore alla casa Riccardo Malagoli all'indomani della presentazione del bilancio. Una coppia di servi ha tentato di rubare una pelliccia di cincillà per un valore di 8.500 euro ma il titolare è riuscito a bloccarli. La polizia sospetta siano gli autori di una lunga scia di furti analoghi in tutto il nord Italia. Paura in via Lombardia alla periferia di Bologna. La notte scorsa ha preso fuoco lo scantinato di uno stabile. Per precauzione i vigili del fuoco hanno evacuato circa 50 persone che sono state fatte salire su un autobus per proteggersi dal freddo. Da 30 anni non si registrava un autunno così secco. Tra settembre e dicembre è caduta la metà della pioggia che cade in quel periodo dell'anno. Il gelo ora sembra arrivato. Le temperature sono state di oltre due gradi oltre la media stagionale. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione. Dopo la minaccia di manifestazione degli indignati, un altro episodio è destinato a turbare il clima di attesa della visita a Bologna del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il capo della Stato è atteso il prossimo 30 gennaio in città per l'inaugurazione dell'anno accademico che coinciderà con il conferimento della laurea ad honorem. Ma i consiglieri comunali protestano perché dicono non è arrivato l'invito. Nei prossimi giorni naturalmente non mancheranno le polemiche e le spaccature su questo argomento. Ma intanto facciamo il punto nel servizio di Gabriele Sciarra. Semplice distrazione o premeditato sgarbo istituzionale? È il rebus che arrovella da questa mattina i consiglieri comunali di Bologna per il mancato invito da parte dell'Università alla cerimonia di conferimento della laurea ad honorem al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano prevista per il prossimo 30 gennaio in coincidenza dell'inaugurazione dell'anno accademico. Ad accorgersi dei mancati inviti la Presidente della Commissione Affari Istituzionali Valentina Castaldini del PDL questa mattina dovendo definire l'agenda del 30 gennaio e vista la concomitanza della visita del Presidente Napolitano la Castaldini per non convocare inutilmente per quella data la sua commissione e vista la tradizionale presenza del Consiglio Comunale alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico chiedeva ragguagli sugli inviti presso l'Aula di Santa Lucia dove sarà tenuta la cerimonia. Scopriva così che nessun consigliere comunale era stato invitato la Presidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi per ora ha scelto di non commentare ufficialmente la vicenda ma pare che i consiglieri comunali siano stati lasciati fuori per mancanza di posti all'interno dell'Aula di Santa Lucia dure invece a caldo la presa di posizione del centro-destra di grave sgarbo istituzionale nei confronti del Comune parlano PDL e Lega Nord che ironicamente si dicono dispiaciuti per i colleghi del PD che fremevano per ascoltare Napolitano e in effetti qualche imbarazzo c'è nelle parole del Capogruppo dei Democratici a Palazzo da Cursi allo Giudice per il quale questi inviti potrebbero ancora arrivare mancando qualche giorno all'appuntamento il Rettore Dionigi osserva infine la Castaldini ha sempre sostenuto l'importanza dei rapporti tra università e città chissà perché, conclude, non ha invitato chi questa città la rappresenta All'indomani della presentazione della manovra di bilancio varata dalla Giunta l'assessore alla casa Riccardo Malagoli fornisce ulteriori dettagli e spiega che la liquota dell'Imu sarà massima per le seconde case tranne i canoni concordati che verranno certificati dal Comune vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni Imu massima al 10,6 per mille per le seconde case sia che siano sfitte sia che siano affittate con un normale contratto a liquota base invece per gli affitti a canone concordato che pagheranno il 7,6 per mille saranno certificati uno per uno dal Comune di Bologna e l'assessore alla casa Riccardo Malagoli a fornire ulteriori dettagli sulla proposta di bilancio 2012 licenziata ieri dalla Giunta di Virginia Merola abbiamo dato un segnale di equità sulla casa tanto con i canoni concordati quanto sull'aiuto all'affitto per il quale c'è un milione di euro una scelta importante per le politiche abitative di contratti di affitto a canone concordato Palazzo da Cursio ne stima 10.000 in città sottolinea Malagoli saranno tutti certificati dal Comune di Bologna se ne occuperà un ufficio ad hoc e l'Imu sulla prima casa arriverà al massimo al 5 per mille lo ha spiegato ieri il sindaco Virginio Merola al termine della riunione di giunta ci sarà quindi un aumento di un punto rispetto all'aliquota base del 4 per mille il primo cittadino ha spiegato anche che l'IRPEF non verrà ritoccata resterà dunque ferma allo 0,7% mentre la TAR sulla tassa su rifiuti aumenterà del 2% non escluso anche l'aumento delle tariffe dei servizi scolastici che potrebbero essere adeguate al tasso di inflazione l'imposta sul turismo viene per ora congelata se alla fine sarà introdotta non servirà a coprire tagli in bilancio ma solo per la promozione turistica della città intanto i sindacati aspettano che si apra il confronto venerdì si apre quella che ci auguriamo sarà una vera e propria trattativa dice Alessandro Alberani il segretario della CISL chiede più chiarezza in merito alla composizione dei 70 milioni di minori entrate dichiarate dal Comune e continuiamo con la polemica politica in qualche modo l'assessore all'istruzione Marina Pillati è contraria all'aumento delle tariffe scolastiche come preannunciato ieri al termine della riunione di giunta dalla vice sindaco Giannini c'è già stato un aumento su quest'anno scolastico i genitori sono già abbastanza provati dice la Pillati sentiamo ancora Pilloni contro la misura ipotizzata ieri dall'assessore al bilancio Silvia Giannini ossia l'adeguamento all'inflazione dei servizi scolastici si schiera apertamente la responsabile dell'istruzione Marilena Pillati esponente del PD la mia posizione non è cambiata sono contraria all'aumento delle tariffe dice l'ho detto non ho cambiato idea vorrei che non si dovesse utilizzare l'aumento delle tariffe per i servizi scolastici c'è già stato un aumento su quest'anno scolastico quindi preferirei non stressare ulteriormente quell'elemento le alternative sono quelle note IMU IRPEF ma io vorrei poter non alzare nulla la Pillati fa affidamento sul percorso che si apre ora con la città e poi il dibattito in consiglio comunale dove la manovra verrà presentata al 30 gennaio perché la misura non venga effettivamente applicata ci sarà una discussione anche con altri soggetti alla fine vedremo quando verrà approvato il bilancio quali saranno le leve se ci sono margini per evitare l'aumento delle tariffe non lo so siamo di fronte ad una somma ingente ossia 70 milioni di euro di tagli ma a stoppare l'assessore è curiosamente un esponente del centrodestra la Pillati stia attenta sull'inflazione può essere molto più dannoso se le famiglie si trovano a pagare all'improvviso cifre altissime come è avvenuto nel 2011 dopo che per 10 anni la politica non aveva avuto il coraggio di fare l'adeguamento delle tariffe ricorda Valentina Casteldini presidente della commissione affari generali a Palazzo da Cursio ed esponente del PDL se non adeguerà le tariffe all'inflazione l'assessore Pillati secondo la Casteldini rischia di lasciare un'eredità pesante al prossimo assessore e questo non sarebbe un bel modo di fare politica la vera questione è ripensare gli scaglioni Isee e andare a vedere chi sono oggi poveri conclude la Casteldini ed ora la cronaca perché ieri pomeriggio è stato sventato un furto all'interno di uno showroom di capi d'abbigliamento piuttosto pregiati nella centralissima piazza Minghetti in azione una coppia di serbi sentiamo come è andata una banda specializzata in furti di pellicce giacconi e capi d'abbigliamento di pregio da riciclare poi sul mercato dell'est Europa è lo scenario che potrebbe profilarsi dietro ad un furto sventato ieri pomeriggio in un prestigioso atelier di piazza Minghetti dove una coppia di serbi spacciandosi per danarosi clienti ha tentato di portare via una pelliccia di cincilla del valore di 8.500 euro i due dall'aspetto distinto e molto ben vestiti si sono finti interessati ad un giaccone ma al momento dell'acquisto hanno detto di non avere contanti e di doversi allontanare per fare bancomat il titolare dell'atelier però che nello scorso mese di dicembre aveva subito un altro furto non si è fatto ingannare dopo alcuni attimi di concitazione il serbo nel tentativo di fuggire si è lasciato cadere la pelliccia di cincilla che aveva rubato poco prima approfittando di un momento di distrazione del gerente i due ladri sono subito stati bloccati dal commesso e da un suo amico che si trovava lì per caso e sono rimasti chiusi dentro grazie al cancello dell'atelier fuori abbiamo il cancello esterno gli ho detto al mio amico chiudi il cancello il mio amico ha avuto la prontezza di chiudere il cancello quindi non sono riusciti a uscire fuori e poi cos'è successo? in quel momento lì lui è scappato è tornato quassù e mentre saliva alle scale quando è arrivato qui su piano e rotolo da dietro gli è caduto un giubbotto di cincilla c'è da dire che la polizia è arrivata molto in fretta ci avrà impiegato 4 o 5 minuti ma quei 5 minuti sono stati difficilissimi perché abbiamo temuto il peggio c'è una banda dietro secondo voi c'è una banda? c'è una banda perché io faccio rappresentante di pellicceria in questo periodo i miei clienti di Bologna hanno subito due furti due pelliccerie diverse poi con la polizia perquisendoli hanno trovato una lista di pelliccerie che dovevano essere prese di mira nei prossimi giorni e ci sono i negozi i più importanti di Bologna nella lista ci eravamo un po' tutti insomma massima attenzione per i suoi colleghi sì adesso sto avvertendo tutti i miei colleghi incendio ieri verso mezzanotte nelle cantine comunicanti di due palazzine di via Lombardia alla periferia di Bologna polizie e vigili del fuoco hanno evacuato 50 residenti che poi durante la notte sono rientrati nelle loro abitazioni non ci sono stati intossicati né feriti le cause dell'incendio sono ancora da accertare ma il rogo potrebbe avuto potrebbe aver avuto origine da un cortocircuito l'allarme è scattato ai civici 41 e 43 di via Lombardi due edifici che hanno lo scantinato in comune i residenti una volta evacuati sono stati ospitati in un autobus dell'ATC arrivato sul posto e nei locali della vicina parrocchia dei Santi Angeli Custodi verso le due gli appartamenti sono stati dichiarati agibili è stata ripristinata l'elettricità e le persone sono potute rientrare nelle loro case ma durante la notte sono rimaste senza acqua e gas danneggiate le 25 cantine colpite dalle fiamme ancora cronaca furto nel convento delle suore figlie di Santa Maria di Leuca di via Santa Rita alla periferia di Bologna l'episodio è stato segnalato dopo le 20 dalla madre superiore che ha riferito alla polizia una sommaria ricostruzione dell'accaduto mentre le suore erano riunite a cena per la refezione qualcuno sarebbe entrato da una finestra del secondo piano del convento avrebbero vistato nelle stanze delle religiose e portato via alcuni oggetti in argento le suore dovranno ora sporgere denuncia ed indicare se siano stati asportati anche contanti oppure altri monili e cambiamo argomento la crisi economica naturalmente si riflette sul mercato di Bologna che ha fatto registrare i dati peggiori su tutto il territorio nazionale secondo uno studio le famiglie sono tutto sommato solide ma c'è molta incertezza e paura per il futuro e per l'occupazione Gabriele Sciarra la domanda dei mutui da parte delle famiglie bolognesi nel 2011 è crollata del 21% rispetto al 2010 è la contrazione più pesante tra le città emiliane che mediamente hanno subito un calo del 18% e in Italia dove il calo medio è del 19% e quanto emerge da uno studio del Credit Bureau Service del CRIF l'azienda bolognese che ha raccolto i dati secondo questo studio l'unico mese con un segno più lo scorso anno è stato quello di febbraio mentre a novembre la richiesta mutui è calata del 46% e a dicembre del 41% le motivazioni stanno nella caduta lo scorso anno di quelle forme di sostegno del mercato dei mutui come la possibilità di rinegoziazione del piano di investimento da parte delle famiglie famiglie che si sono fatte molto più prudenti in questa fase caratterizzata da una pesante incertezza economica né è valsa a sostenere la richiesta di mutui la stagnazione dei prezzi degli alloggi stante il permanente stallo del mercato immobiliare una cautela confermata dalla tipologia dei mutui richiesti quelli preferiti hanno durate tra i 25 e i 30 anni e per importi più bassi lo studio segnale infine una certa solidità finanziaria delle famiglie italiane nonostante tutto sono poco indebitate ma assai prudenti perché condizionate da un mercato del lavoro ancora sofferente con un alto tasso di disoccupazione e una debole dinamica dei redditi questa mattina i campi e gli alberi attorno a Bologna avevano un suggestivo manto bianco questa notte la temperatura è scesa di molto sotto lo zero e l'umidità ha fatto il resto con le gelate tuttavia Bologna sta attraversando il periodo più secco degli ultimi anni non è ancora emergenza idrica ma la situazione viene tenuta sotto controllo sentiamo l'autunno che si è appena concluso è stato archiviato come il più siccitoso degli ultimi 30 anni secondo le centraline ARPA che misurano anche le precipitazioni piovose a Bologna è caduta la metà dell'acqua che ci si attende in questo periodo il mese di novembre poi è stato particolarmente avaro di pioggia sono caduti 18 mm di acqua contro i 64 di media questo nell'arco di tre giorni contro gli 8 di media il dato sulla siccità è accompagnato da un'altra anomalia questa volta riguardante le temperature molto più alte della norma rispetto alla media stagionale del lungo periodo lo scorso autunno la colonnina di Mercurio ha fatto registrare temperature più alte di 2,2 gradi con un picco a settembre mese nel quale la media è stata più alta di ben 4,2 gradi ma le anomalie non finiscono qui perché invece le minime dei mesi di ottobre e novembre sono state più basse del solito con meno 1,3 gradi a ottobre e meno 0,1 gradi a novembre dunque la stagione appena passata è stata la più secca e la più calda negli ultimi 30 anni ma le notti almeno in ottobre e novembre sono state più fredde del solito lo studio pubblicato sul sito del comune di Bologna aggiunge un ultimo elemento un autunno così asciutto è arrivato dopo una primavera estate caratterizzata anch'esse da particolari siccità ed ora ci fermiamo per un attimo arriva la pubblicità rientreremo in studio fra poco ancora in diretta dagli studi di Etg rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale l'università l'università non ha invitato il consiglio comunale di Bologna alla cerimonia l'inaugurazione dell'anno accademico che coincide con il conferimento della laurea d'onore ma al presidente napolitano forse il rettorato costretto a questa scelta per mancanza di posti IMU massima al 10,6 per 1000 per le seconde case sia sfitte sia affittate con contratto a fornire dettagli sulla manovra del comune l'assessore alla casa Malagoli all'indomani della presentazione del bilancio da parte di Merola una coppia di Servi ha tentato di rubare una pelliccia di Cincilla per un valore di 8500 euro ma il titolare è riuscito a bloccarli la polizia sospetta siano gli autori di una lunga scia di furti analoghi in tutto il nord Italia paura in via Lombardia alla periferia di Bologna la notte scorsa ha preso fuoco lo scantinato di uno stabile per precauzione i vigili del fuoco hanno evacuato dall'edificio 50 persone che sono state fatte salire su un autobus per proteggersi dal freddo da 30 anni non si registrava un autunno così secco tra settembre e dicembre è caduta la metà della pioggia il gelo ora sembra arrivato ma le temperature fino al mese scorso sono state di oltre 2 gradi sulla media stagionale e continuiamo con il nostro telegiornale parliamo della protesta dei taxisti oggi erano un centinaio i tassisti bolognesi al circo massimo in protesta contro le liberalizzazioni poi nel pomeriggio il secondo incontro con il governo in cui gli autisti hanno consegnato il documento unitario in rappresentanza di 23 sigle sindacali che raccoglie le controproposte della categoria il presidio di polizia ha impedito ai tassisti di avvicinarsi a Palazzo Chigi blindato vietati gli assembramenti e chi insisteve è stato identificato dalla risposta del governo dipenderà se la trattativa è ufficialmente aperta oppure no intanto anche a Bologna è in corso un'assemblea di tutte le sigle del settore per fare il punto sulla situazione oggi il presidente Cotabo Riccardo Carboni era stato schietto il fatto che si sia aperta una trattativa positivo poi l'esito e tutta un'altra cosa aveva detto quanto a eventuali forme di protesta organizzate si attende comunque la conclusione del confronto con l'esecutivo e si è discusso delle liberalizzazioni del governo Monti al convegno promosso da alcune associazioni forensiche si è svolto a San Domenico tra le misure che gli avvocati contestano c'è quella che prevede la costituzione di società di capitali e l'ingresso di soci non professionisti le grandi banche o le finanziarie potranno comprare interi studi e l'avvocato a quel punto non sarà più autonomo dicono ma andiamo a sentire meglio a cercare di capire meglio nel servizio di Giuseppe Pilloni Anche gli avvocati sono chiamati in causa dalle liberalizzazioni del governo Monti misure che l'esecutivo si appresta a varare per calmirare i costi delle parcelle garantire una maggiore trasparenza favorire l'inserimento professionale dei giovani e aprire la concorrenza per discuterne e confrontarsi gli avvocati si sono ritrovati a San Domenico tra le misure del governo c'è la costituzione di società di capitali con la possibilità di introdurre senza limiti soci non professionisti negli studi la presenza di soci di capitale può essere rilevante per il cittadino che si rivolge ad un avvocato sotto questo profilo sotto il profilo della trasparenza l'identità dei soci di capitale non è pubblica non è nessuno sa chi è il singolo socio di una società di capitale non è una società di persone e quindi sapere chi sta dietro uno studio organizzato come società di capitale per chi si rivolge a quello studio non è indifferente io penso che la norma che dà più facile accesso ai giovani sia eventualmente quella sulla possibilità di fare la pratica prima durante il corso degli studi universitari se pur con le difficoltà che può sorgere proprio temporalmente non credo che costituire società di capitali con soci di capitali diversi dai professionisti dia libero accesso ai giovani o purtroppo potrebbe dare un libero accesso ai giovani che alla fine diventano dei meri soci d'opera di queste società sotto il controllo di soggetti di capitale molto forti e quindi che condizionano anche non solo l'accesso ma anche i redditi di questi giovani soci meno forti ed ora una notizia di cronaca giudiziaria perde ulteriormente consistenza l'accusa del processo cosiddetto concorsopoli oggi il tribunale di Bologna ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni scusate relative ai concorsi universitari la decisione di oggi fa seguito alla sentenza predibattimentale del luglio scorso che aveva praticamente annullato quasi tutto il processo lasciando quattro imputati tra cui due gastroenterologi di fama internazionale come Vaira e Roberto Corrinaldesi per residue imputazioni in pratica i giudici hanno riconosciuto che le intercettazioni su cui sostanzialmente si basava tutta l'accusa e da cui partì il filone dei concorsi erano state fatte per un altro reato relativo ai rapporti con le case farmaceutiche quindi le intercettazioni non possono essere utilizzate per altri reati quelli relativi ai concorsi andiamo ancora in pubblicità ritorniamo in studio tra poco ancora in diretta per una notizia che riguarda la nostra programmazione mercoledì 18 gennaio nuovo appuntamento con palcoscenico in questa sera alle 23 su canale 10 apre la stagione l'auditorium Manzoni di Bologna con la filarmonica del comunale poi sarà la volta Dion Warwick al consorzio di Budrio arriva l'opera con il trovatore di Giuseppe Verdi mentre Gaia De Laurenti sarà al Deon con la drammaturgia greca l'isistrata di Aristofane al Tivoli tutti i mercoledì fino ad aprile andrà in scena l'attesissimo laboratorio Zelig fucina della comicità a un lato invece il musical Heidi in programma al Duse per il 22 gennaio mentre Massimo Ghini per problemi di affonia rinvia il debutto di La Cage of All che sarà all'Europa dal 22 gennaio appuntamento quindi questa sera alle 23 sul canale 10 con palcoscenico insieme ad Alessia Salvatori ed ora rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale l'università non ha invitato il consiglio comunale di Bologna alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico che coincide con il conferimento della laurea al presidente napolitano forse il rettorato costretto a questa scelta per mancanza di posti i mu massima a 10,6 per mille per le seconde case sia sfitte sia affittate con normale contratto a fornire dettagli sulla manovra del comune l'assessore alla casa Riccardo Malagoli all'indomani della presentazione del bilancio una coppia di serbi ha tentato di rubare una pelliccia di cincilla per un valore di 8.500 euro ma il titolare è riuscito a bloccarli la polizia sospetta siano gli autori di una lunga scea di furti analoghi in tutto il nord Italia paura in via Lombardia alla periferia di Bologna la notte scorsa ha preso fuoco lo scantinato di uno stabile per precauzioni i vigili del fuoco hanno evacuato dall'edificio circa 50 persone che sono state fatte salire su un autobus per proteggersi dal freddo da 30 anni non si registrava un autunno così secco tra settembre e dicembre è caduta la metà della pioggia il gelo ora sembra arrivato ma le temperature fino al mese scorso sono state di oltre 2 gradi sulla media stagionale ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie per aver guardato il nostro canale